Tespian è un robot socievole e manifesta le sue qualità davanti ai curiosi. Lo hanno creato alcuni esperti britannici, può cantare, ballare, ridere. Ma un suo programma gli consente di calibrare l'intonazione e interagire in modo adeguato con l'interlocutore. Tespian è uno dei 30 robot che sono stati presentati da diverse nazioni a Mosche in occasione della fiera RoboStation. RoboStation è l'occasione per mostrare ai giovani quanto avanzi la progettazione robotica. Abbiamo lo scopo di introdurre i robot presso il pubblico dei bambini e far vedere che non sono pericolosi. I più giovani si dimostrano molto interessati. Mia figlia, pur essendo piccola, mi ha portato qui. Dovrebbero esserci più eventi come questo. È molto interessante, sono venuta qui con i miei nipoti. Tutto interessante e informativo. Altra vedette della mostra è il robot Kubinator, che può manipolare e risolvere il cubo di Rubik. Concepito in Irlanda, Kubinator è il più veloce della categoria. Gli bastano 20 secondi per trovare la soluzione. Alla RoboStation i ragazzi possono anche costruirsi il loro robot. Fino al 15 di ottobre l'esposizione Moscovita accoglie circa 3.000 visitatori al giorno. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.